... Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa di oggi, giovedì 5 dicembre 2019. Sono le 7, questa è Fano TV e tra poco vedremo i giornali. Cominciamo dal santo del giorno con l'aiuto della grafica, vediamo il santo di oggi. Oggi la chiesa ricorda il beato Nicolò Stenone, il sole sorgerà alle 7.25, tramonterà alle 16.32. Il cielo sarà inizialmente sereno, poco nuvoloso, ma oggi aumenteranno nel pomeriggio le nuvole, temperature minime in lieve diminuzione, ormai siamo in un clima assolutamente invernale con temperature anche nel primo mattino che si aggiungono intorno ai 3 gradi sulla costa. Domani venerdì pioverà, avremo deboli precipitazioni sparse nel settore centro-meridionale con occasionali brevi rovesci. I fenomeni sono in esaurimento nel primo pomeriggio, mentre la giornata di sabato sarà parzialmente nuvolosa con maggiori addensamenti nelle zone interne, dove pioverà con brevi piovaschi a ridosso dei rilievi appenninici, soprattutto al centro. Condizioni stabili con temperature in aumento invece, anche se lievemente, a causa del vento di Garbino, nella giornata di domenica, mentre seguirà un peggioramento per la giornata di lunedì. I giornali, il Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, apre con la Berloni, dove spunta un investitore, l'accordo ancora resta però in salita. C'è un annuncio fatto da parte del gruppo nel giorno in cui i dipendenti hanno ripreso il lavoro. Via dell'Abeti, via degli Abeti sempre più svuotata, una zona che un tempo era piena di negozi, piena di aziende, oggi i magazzini invece sono sfitti e tanti cartelli di vendita. Il deserto dell'ingrosso, questo è il titolo della fotonotizia. Eravamo in 25, adesso non siamo nemmeno in 10. La politica verso le regionali 2020 parla il segretario del PD, Gostoli. Ceriscioli per ora è il candidato del PD, ma c'è quell'inciso al momento, che ha detto Gostoli, che ha riaperto praticamente tutte le parentesi possibili circa il futuro prossimo del Partito Democratico. E ha riacceso i riflettori su molti interrogativi di fine legislature. Oggi intanto Giorgia Meloni sarà ad Ancona, Ciccioli dice i nomi, vedremo. Ora orari sfalsati per non darsi fastidio, perché oggi ad Ancona c'è anche la manifestazione delle sardine. Dunque la Meloni e le sardine. Aggredito invece a Fano da un bandito, reagisce e lo mette in fuga. Era armato di pistola con il volto incappucciato. Dammi lo zaino, questa è l'intimazione. Il titolare del Simpli in centro storico, dove una volta c'era Lupin, non cede però e quindi lo mette in fuga. La Carlino di Ancona, la centropagina, la valanga killer Rigopiano, vergognatevi il titolo della fotonotizia. 22 archiviati, un parente delle vittime osimane. Le vittime sono Dino Di Michelangelo e Marina Serraiacco, che vedete nella fotografia. Poi da Corinaldo, il sindaco indegato, da quella notte ho perso la serenità. Stiamo ormai andando incontro all'anno, all'anniversario, un anno fa, la tragedia. Davide, 17 anni, che dice, racconta, ho provato a salvarli. Queste macerate invece, ragazzina uccisa, ergastolo al padre. Il padre Mohamed Riaz, condannato per l'omicidio della figlia di 19enne Azka, la moglie dice, giustizia è fatta. A centropagina, un anno in prima linea, festa di Santa Barbara, benemerenze ai vigili del fuoco. Il Carlino di Pesaro, quelli che pagano e quelli che non pagano invece le luminarie. Solo 150 negozianti su 400 in centro storico a Pesaro hanno contribuito per accendere e pagare dunque le luci natalizie. Berloni spunta un investitore, l'azienda, trattative molto concrete e anche il sottosegretario Morani è stata contattata da alcuni imprenditori. E dunque il mistero è stato risolto, affanno le spoglie e sono del beato Antonio, ma l'indagine non è ancora chiusa. Ieri c'è stata l'apertura della bara in zinco al cimitero dell'Ulivo, il magistrato impone però massima riservatezza. Padre Bracci chiede di custodire la cassa temporaneamente a San Pietro in Valle. Firmata la convenzione comune carnevalesca, un atto indispensabile per accedere al bando ministeriale. Sul piatto ci sono anche 60 mila euro da parte del ministero. Il beato c'è davvero, titola il Carlino di Fano, ma è ancora senza requie. L'apertura della bara di zinco rinvenuta a Santa Maria Nuova non lascia dubbi. Ora si pone il problema però di dove custodire il corpo. Ma se Fano scopre un beato rischia di perdere un santo e il santo è San Teodoro. Il priore di Santa Maria del Suffraggio, Carlino Bertini, annuncia un ennesimo tentativo di ritrovare le spoglie di San Teodoro. Un cristiano vissuto nel 200 d.C., le cui reliquie, secondo i documenti, sarebbero conservate nella confraternita a Fano. Aggredito da un balordo armato, reagisce, lotta e lo mette in fuga. L'agguato dell'incappucciato in pieno centro, dammi lo zaino, ma il titolare non cede. Le sue grida, nonostante piovesse a dirotto, sentite dai vicini che hanno allertato il 112. Questo è avvenuto nel tardo pomeriggio, inizio serata di lunedì. Guardia Costiere e Vigili del Fuoco, omaggio a Santa Barbara, ieri mattina a Fano, davanti al monumento dei caduti del mare. Falciata da un'auto mentre attraversava sulle strisce l'investimento in Viale Battisti, la donna trasportata all'ospedale di Pesaro, sotto shock il conducente, per sospette fratture multiple, è finita all'ospedale una donna di 78 anni. Ieri pomeriggio ha avuto questo incidente, intorno alle 16.30, nel momento in cui calano le prime ombre e le luci del tramonto abbagliano la vista. La donna stava attraversando Viale Cesare Battisti regolarmente sulle strisce pedonali quando una vettura, una Citroen, l'ha investita. Armato tenta di rapinarlo, ma lui lo fa fuggire, questo è il Carlino, la vittima è uno dei titolari del simpio di Via Froncini, in centro storico. La sua reazione ha fatto desistere il maldestro balordo, c'è stato un corpo a corpo tra i due, ora, dice lui, voglio soltanto dimenticare. Pompieri, un 2019, un anno super, oltre 4.500 interventi a Pesaro, tutti i numeri del comandante Lorenzo Elia, incendi e incidenti stradali, la casistica più frequente, intensa l'attività di prevenzione. La Berloni, c'è un investitore, il titolo del Corriere, ma restano i nodi da sciogliere, l'annuncio del gruppo arriva a sorpresa, il rischio chiusura coinvolge anche l'indotto, ma la CNA si dice preoccupata. Litiga a Senigallia con la vicina, poi la minaccia shock, il pensionato ti dò una schioppettata. Il giorno dopo si vede arrivare la polizia che gli sequestra fucile e pistole. Intanto il vicequestore Licari dice controlli serrati, sempre più donne, chiedono la licenza. Presi con l'iPhone rubati, in otto finiscono nei guai, cellulari ritrovati dai carabinieri in varie regioni dopo il furto in un magazzino di Monte Marciano. L'Interland pesarese, così come i borghi collinari, finiscono nel mirino di una banda seriale. I ladri agiscono prima di cena, altri furti sono stati sventati nella zona di Novilare. Intanto il Corriere pubblica la notizia che ieri in Piazza del Popolo, nel pomeriggio, le bancarelle di Natale erano al buio. C'è stato un blackout improvviso, molto probabilmente determinato da un sovraccarico di consumi di corrente, che ha fatto saltare l'impianto elettrico del mercatino natalizio con inevitabili mugugni da parte degli ambulanti. A Senigallia meningite profilassi per 50 persone. Resta grave l'anziana che si è sentita male in albergo dopo la gita. Controlli su chi era con lei in pullman e sugli amici. Dunque resta ancora ricoverata in gravi condizioni questa 73enne colpita da meningite batterica da meningococco di tipo C, mentre è in vacanza con una comitiva a bagno di Romagna. La donna si trova ricoverata da sabato all'ospedale di Cesena. Per lei è una diagnosi, quella della meningite batterica, che ha fatto subito scattare la profilassi, e che ha coinvolto decine e decine di persone, oltre ai parenti con cui la donna ha avuto contatti stretti, sono stati sottoposti a profilassi antimeningite anche tutti i partecipanti alla gita. Circa una cinquantina di persone, adulte, oltre 65 anni, proveniente oltre che da Senigallia, anche da Fano e da Ancona. Lofreda, ipotesi, avvio al pronto soccorso di Pesaro. Voci sempre più insistenti lo danno in partenza. Lui non parlo, dice, o il vincolo della riservatezza, e spunta un possibile incarico a Riad. In trincea all'ospedale Marche Nord, dopo quattro anni in prima linea, il dottor Lofreda sarebbe pronto a lasciare il pronto soccorso per assumere un nuovo incarico in un grande ospedale di Riad, la capitale dell'Arabia Saudita. Interpellato al telefono, il primario però si è trincerato dietro il patto di riservatezza, che per contratto lo vincola all'azienda ospedaliera Marche Nord. Di sanità si parla sempre su un carlino per un patto che è stato firmato tra Marche ed Emilia Romagna, un accordo soprattutto di collaborazione con la vicina Romagna e le Marche per l'emergenza sanitaria nei comuni del Monte Feltro. I cittadini marchigiani, infatti, che abitano nel confine con la provincia di Rimini, verranno trasportati direttamente nei servizi di emergenza romagnoli più vicini. Questo è l'annuncio che è stato dato da Luca Ceriscioli, che ha aggiunto, si tratta di una giusta ed adeguata risposta, ha commentato il Presidente, e l'intesa è stata già siglata dal Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dal Presidente Ceriscioli. Lanterna, inchiesta al rush finale, patteggia il ricettatore della gang ad un anno dalla strage di Corinaldo, a rischio il processo, ha processo i sei componenti della banda dello spray, mancano tre giorni al primo anniversario della strage, la chiusura dell'indagine è agli sgoccioli, sarebbe questione di tempo, perché la Procura Dorica chiede di procedere contro parte degli indagati finiti al centro dell'inchiesta nata dalla tragedia dello scorso 8 dicembre. I PM potrebbero chiedere il giudizio immediato per la cosiddetta banda dello spray, i cui presunti componenti sono finiti in manetta ad agosto, dopo le indagini portate avanti dai carabinieri del nucleo operativo di Ancona. E come dicevamo, il titolare del Comprooro ha patteggiato la pena, poco meno di cinque anni di reclusione, davanti al GUP Francesca De Palma. Questa invece è la pagina del Carlino, che fa riferimento all'anniversario, alla tragedia di Corinaldo. Asia, sotto quel lenzuolo, certi orrori non si ripetano. Davide, che ha 17 anni, è di Mondolfo, rievoca quella notte, la notte della strage, e il dolore per l'amica. Sono arrabbiato più con i gestori che con la banda dello spray. E poi c'è l'intervista con ciò che ha da raccontare questo ragazzo di 17enne. Era piena di vita, ricordando la vittima. Vedo spesso i suoi genitori, stare insieme ci dà forza. Apre l'anno del Giubileus a Loreto. Loreto aspetta di nuovo Papa Francesco. Domenica ci sarà il segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin. Lunedì all'aeroporto di Falconara partiranno tre statue della Madonna. Dunque la Santa Casa di Loreto è la Casa del Papa. Dicono, dice il Vescovo, gli siamo grati del viaggio compiuto il 25 marzo scorso. Qui è per aver donato alla città un evento dalla portata sia storica che religiosa. Come il Giubileo che Loreto non avrà forse più occasione di accogliere. Queste sono le parole del Vescovo. Urbino, mercatale verso la riqualificazione. C'è chi si domanda che fine abbia fatto il concorso di idee. L'iter per i progetti sta comunque proseguendo. Agenzia delle Entrate, a rischio. La chiusura è sconfitta per tutti. Mobilitazione bipartisan. Il sindaco Gambini dice che ha offerto altri locali, però da loro soltanto silenzio. A centropagina Sanità ha firmato accordo con l'Emilia Romagna. Torniamo sulla seconda pagina del Corriere Adriatico. Fa riferimento alla notizia d'apertura, alla fotonotizia, dove, come vedete, qui siamo su Via degli Abeti, del Tempio dell'Ingrosso. Restano i magazzini sfitti. Il declino del comparto commerciale di Torraccia si riflette soprattutto nella zona di Via degli Abeti. C'è ancora chi resiste, però. Hanno chiuso nomi storici. Eravamo in 25 e adesso non siamo nemmeno in 10. Mentre i portoghesi delle luminarie, cioè coloro che non pagano, ma beneficiano di ciò che fanno gli altri, di coloro che invece hanno pagato. Sono 250 i commercianti che non hanno pagato. Commercio e confesercenti hanno appeso volantini sulle vetrine dei negozi che hanno contribuito con 80 euro. Solo 150 su 400 in centro storico. Andiamo a Monte Nerone. Ancora sono vive le immagini del rogo che distrusse il rifugio Corsini. Ebbene, guardate, questa è la fotografia di oggi, la fotografia attuale. Il Nerone si prepara all'arrivo della neve e il rifugio Corsini continua a rinascere. E si lavora all'allestimento della stagione ormai alle porte, prosegue la tradizione dello sci nella storica stazione in cima al monte e si sta lavorando appunto per accogliere gli amanti dello sci. Chiaramente ancora manca la materia prima, ovvero la neve. In attesa che scende, le previsioni non le escludono, almeno a breve. Gli impianti hanno subito la necessaria manutenzione ordinaria. Stiamo ricostruendo il rifugio Corsini andato a fuoco nell'estate del 2017, sottolinea Piero Eugenio Burani, presidente della società Sceovie Montenerone. Un investimento importante di circa 700 mila euro e quindi richiede del tempo. Comunque è stato già rifatto il consolidamento sismico. La struttura esternamente è stata ultimata con gli infissi e il termocappotto. Rimangono da ultimare gli impianti interni e le rifiniture sempre per quanto riguarda l'interno. Il presidente del Consiglio, siamo di nuovo a Senigallia, rifiuta il bilancio. Adesso il sindaco Mangialardi deve cercare un esterno. Impasse per le deleghe di Campanile. Mangialardi dice ancora, ruolo delicato, ho deciso di aspettare. Niente rimpasto in giunta, nelle commissioni sarà presente. Questa invece è la pagina 3 del Corriere Adriatico. I capannoni in abbandono con l'amianto da bonificare. Tra chi è in attività si sta completando l'intervento, ma i costi per smaltire l'amianto sono ancora troppo alti. Fusione con Monte Ciccardo. Anzi, Monte Ciccardo ha chiesto di fondersi con il Comune di Pesaro. La destra dice no, ma si farà. Referendum stabilito per il 19 gennaio 2020. Il sindaco Ricci dice tutto in fretta, ma lo hanno chiesto i cittadini. Santa Veneranda, troppo traffico, il borgo ne soffre. Circonvalazione sempre annunciata e mai realizzata. Il Comitato dei residenti ha convocato un'assemblea. Giovani del PD guardano all'ambiente, piani, progetti e azioni concrete. Le proposte a Valle Foglia dei Democrat su mobilità dolce, edilizio ecosostenibile e raccolta differenziata. Dalla Valle del Metauro, da Fossombrone, panettoni, d'autore e solidali, bontà nel villaggio degli Elfi. Una filiera di alta qualità per la vendita dei dolci, che andrà a sostenere la Croce Rossa italiana. Da frontone mai autorizzato dalla provincia il bacino idrico per l'innevamento, impianto del Catria. Il dirigente Bartoli aggiunge, niente malutenzione di impatto ambientale, ma molte prescrizioni. Infine lo sport con la fotografia che in molti attendevano di poter vedere, con mister Alessandrini al centro, un volto noto per i tifosi fanesi. Alessandrini ha già guidato il Fano più volte. Tutta fiducia per lui. Il Fano può ancora farcela, dice. è stato presentato il nuovo tecnico dell'Alma, che per i tifosi Granata è, come dicevo, una vecchia conoscenza. Noi ci fermiamo qui. La rassegna è terminata con le notizie più importanti del giorno, secondo la nostra redazione. Ci fermiamo, dicevo, torneremo questa sera con il telegiornale delle 20 e 30. Ma vi ricordo che abbiamo il nostro sito internet, sempre aggiornato, occhialanotizia.it. La nostra applicazione che potrete scaricare, come sempre, gratuitamente dagli store di Apple e Android. Quindi basta digitare occhio alla notizia, la potete scaricare. Lì avrete tante cose interessanti, compreso un link per fare le segnalazioni, così come tutti i video che carichiamo, sia degli speciali, ma anche la rassegna stampa e il telegiornale. Quindi tutto un concentrato di informazione. Ma c'è anche spazio per le offerte. Se volete andare a vedere, c'è sempre un'offerta con dei coupon interessanti, degli sconti che non fanno mai male. Per il resto è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie. Grazie.